A questo punto possiamo anche cominciare con le notizie, no? Sì, direi. La prima notizia di oggi è super interessante, ma dobbiamo calcolare anche... Sono connessa, ti sento, vai! Siamo in diretta! Dobbiamo calcolare la differita che c'è enorme, te tu e due. Allora, la prima notizia di oggi ovviamente è una notizia di tendenza, perché non potevamo non menzionare il concertone che c'è stato al Duomo di Milano di Andrea Bocelli, del famosissimo cantante. E' stato due giorni fa, c'è stata una diretta su YouTube, è stato trasmesso questo mini concerto, perché Andrea Bocelli ha cantato soltanto cinque brani musicali. La diretta su YouTube è stata, pensa, seguita da ben più di due milioni e cinquecento persone. Ma che non ti vorrei dire, ma adesso la diretta, che ovviamente è online su YouTube, ha ben 33 milioni di visualizzazioni. Esattamente! Bocelli ha cantato da solo, accompagnato dal piano, i primi quattro brani musicali all'interno del Duomo e poi l'ultimo nel sagrato della chiesa all'esterno, in questa piazza Duomo totalmente vuota, no? Tu immaginati Milano, no? Sempre piena di gente, di piccioni volanti. Faccio vedere qualche immagine, vai, tu parla. Vai, puoi vedere le immagini. Ma cosa puoi vedere? Dei navigli? All'inside, poi ce ne sarà pure fuori, no? Sì. Aspetta! Allora, il pezzo che ha cantato fuori, sì, era praticamente l'Amazing Grace, che è questo inno di ringraziamento cattolico del Settecento. del compositore Newton. È stato molto emozionante, come potete vedere c'era questa piazza San Pietro, io sono ancora alla via Coruscisto di venerdì. Torna tra noi. Oh, aspetta! Oddio, no, aspetta, come giro da qui? Ok. Allora, aspetta, la situazione è in bilico. Ok. Tu ci sei mai stata a Milano? Certo! Sai che non ti senti? Io non sono stata a Milano, quindi secondo me, cioè, è stata anche una bella scenografia. Ma perché non è stata a Milano? Cioè, per fare shopping? Come posso dire? E' un riuscito. Io, tipica fashion spoiler. Tagghiamo Bocelli. Bocelli, vieni tra noi. Bocelli. Per rivedere la diretta, ovviamente, su YouTube. Allora, altra notizia. La seconda notizia del giorno e della giornata sono i live streaming. Perché, ecco, tutta questa situazione, di questo, ovviamente, momento difficile, storico, che andrà sui libri, che sta creando situazioni nuove, problematiche, non, eccetera. Ha creando, cioè, insomma, la situazione musicale classica ha dovuto trovare, diciamo, delle soluzioni. Quindi, che cosa è successo? Hanno, ovviamente, pensato bene, fortunatamente, di mettere dei concerti a disposizione in streaming online. E la nostra cara amica, classicfmpod.com, ha generosamente creato una lista di tutti i concerti, no, di tutti i concerti, di tutte le orchestre che, appunto, lasciano libera, come si dice, libero accesso a determinati archivi, dei concerti, passati, di tutti i concerti, passati, no, quale pagina. Diciamo che, fondamentalmente, le maggiori orchestre europee, per esempio, la Berlin Philharmonic, la London Symphony, che non è più tanto europea, si possono andare, per esempio, nei siti delle stesse orchestre. La generosità da parte delle orchestre di dare libero spazio a tutti i concerti, perché, comunque, effettivamente, oggi, da chiusi detto casa, probabilmente, quasi tutti ascoltiamo molta più musica durante la giornata e magari ci dedichiamo a nuovi stili. È una bella opportunità, no, poter assistere anche a concerti di orchestre come i Berliner, gratuitamente. Per esempio, stavo vedendo che nell'articolo sono elencati già i concerti che ci saranno a breve. C'è la tua lista, ok? Sì. Perché, allora, se andate sul sito, appunto, da Classic.fm, ci sta tutta questa lista, che vediamo qua, che, tipo, forever and ever, sono tutte le orchestre, i migliori, si può dire, le migliori del mondo, che potrete cliccare e trovate tutti, appunto, i, come vedete, live streaming, free online operas, oppure open home. Per esempio, bellissimo, il 16 di aprile ci sarà la London Symphony Orchestra, che suonerà la numero due di Mahler, la sinfonia numero due. Comunque, stanno qui, ecco, queste sono tutte le, come vedete qua, abbiamo il 16 aprile, il 17 aprile, il 19, il 20, il 21, insomma, c'è tutta la lista e queste sono quelle proprio aggiornate. Secondo me, loro aggiornano questo articolo spesso, probabilmente settimanale o mensile, no, mensile, perché oggi è stato, è stato proprio oggi riaggiornato, quindi queste saranno le date tutte nuove. Che poi vorrei aggiungere, che in questa lista non ci sono, per esempio, l'Accademia Nazionale Santa Cecilia, o anche il Teatro alla Scala di Milano, tanto per tornare a svuoco in Milano, comunque c'è, che praticamente entrambe usufruiscono da quello che ho potuto vedere di RaiPlay, RaiPlay, sì, mi pare che sia RaiPlay, dove tramite appunto questa piattaforma loro mettono anche loro a disposizione vecchi concerti o opere teatrali, appunto, anche da parte della Scala. E niente, l'unica tristezza è che noi stanno in Olanda non possiamo partecipare a questa bellezza, perché non si sa perché, è criptato, e quindi RaiPlay ti dice, sei una loser, non puoi sentirla. Quindi niente, per noi no, però per tutti i nostri amici italiani che ci stanno seguendo. Poi da qua ci potremmo anche riagganciare al fatto che tanti musicisti, grandi musicisti, si stanno anche dedicando a delle lezioni online gratuite. Più che altro stanno creando come delle lezioni, delle pillole di suggerimenti musicali molto interessanti, che aiuterebbero così, aiuteranno, possono dare in qualche modo aiuto ai musicisti per studiare in questo periodo particolare. Tra i nomi di quelli che un po' abbiamo trovato sono soprattutto Nicola Benedetti, tanto per rimanere in ambito Italian, la trovate nel suo Instagram, la sua fondazione, la Nicola Benedetti Foundation, che lei ovviamente è la fondatrice, quindi parte della sua carriera è anche appunto aiutare i futuri musicisti. E poi un altro molto interessante sono le lezioni di Mario Brunello, del solista Mario Brunello, violoncellista, che ha creato questa serie di lezioni di 24 giorni. Le lezioni sono state su Facebook, molto interessanti, di 24 minuti, dove 12 minuti lui sdedicava il tempo per lo studio della mano destra e 12 minuti per lo studio della mano sinistra. Dovete anche imparare quale sia la mano destra e quale sia la mano sinistra, se avete di problema. Un altro, per esempio, solista molto famoso, che sta dando come dei consigli, dei suggerimenti per lo studio della suonata, giusto? Come? Con il quale tu hai suonato. Con il quale io ho suonato, sì, ho avuto l'onore di accompagnarlo con la Tilarmoniso in Nederland. E' Agustin Adeli, questo violinista, che sta dando dei consigli giornalieri sulla tecnica violinistica, come affrontare di determinati difficoltà tecniche, etc. Diciamo che tutta questa situazione, alla fine, ha portato dei benefici anche in casa. Cioè, nel senso, ecco, adesso magari questi solisti, avendo magari più tempo, visto che sono stati cancellati ovviamente tutti i loro concerti, dedicano tempo, ecco, a queste lezioni, che le possiamo considerare anche delle lezioni d'oro, perché non tutti, ovviamente, ci possiamo permettere il mega insegnante o il mega solista come insegnante. Quindi, ecco, un'altra è Emily Beynon, se la pronuncio bene, che è la prima flautista, la flautista principale della Royal Concert Ghebao. E anche Perlman Izzak. Izzak! Perlman? Perlman? Perlman, sì, sì. Ok. Anche perché, attraverso sia Facebook che Instagram. Allora, passiamo alla notizia, un'altra notizia del giorno. Mi piacerebbe consigliare un CD che è uscito da pochissimo del mio love, del mio grande amore, Martin Frost. Purtroppo, non si sa se avrei cambiato, anzi, non ci sapere. Però, allora, Martin Frost, il famosissimo clarinettista, è uscito il suo CD nel quale suona tre concerti per clarinetto di Vivaldi. Allora, l'idea del CD, a quanto pare, è nata dal fatto che lui si sia posto, come il quesito, che cosa, che musica avrebbe composto Vivaldi se avesse avuto a disposizione il clarinetto moderno? Perché noi sappiamo comunque che il clarinetto, come è conosciuto oggi, è stato perfezionato dopo il 1730, quindi, diciamo, non è uno strumento prettamente barocco. E quindi lui, attraverso l'arrangiamento di alcuni brani famosi dell'opera corale e anche di Vivaldi, quali Giuditta Triunfa, Solo Limpiade, Fida Ninfa o Giustino, hanno riscritto questi tre concerti per clarinetto e orchestra d'archi. E sono tre. Uno è il Sibiamo Maggiore, il Sant'Angelo, uno è il Re Minore, la Fenice, e poi uno in Fa Maggiore, il Mezzettino. In più, nel CD si possono trovare due sinfonie per orchestra d'archi e basso continuo. Il CD, ovviamente, attualmente è difficile da reperire a livello proprio, cioè, fisicamente, a quanto pare manca. Può essere reperito solo su Spotify o tramite download online in questi giorni. Da fine maggio, poi, potreste... Un po' di 10 euro, non lo so, Gianni, giusto? Sì. Ok. Poi, come clarinetti barocchi sul sito comunicatistampa.net, c'è questo articolo che, appunto, riguarda una registrazione discografica della Limen, chiamata Works for Clarinet Trio, ed è un CD considerato più unico che raro, poiché contiene la registrazione, prima assoluta, di clarinetti storici originali. I veri clarinetti barocchi, originali, diciamo, che sono rimasti, a quanto pare si trovano solo nei musei di Bruxelles, Berlino e Norimberga. Quindi, se fammo un carico, penso che in tutta... tutto il mondo saranno tipo quattro. Non lo so. Ah, Francesca! Cioè, io penso che posso salutare a gente, ma ti pare normale? Il CD è pubblicato dalla Sony Classical e vorrei farvi vedere l'inizio del trailer, perché è un bellissimo trailer dove Martin Frost spiega anche perché è stata l'idea, diciamo, da dove nasce quest'idea per questo CD. What do we do when we recreate the past? Beh, ragazzi... Dai, l'ora è stabilito. Entro l'ora abbiamo detto ormai tutte le nostre news. Devo dire che l'unica cosa che voglio far vedere, che è così, insomma, simpatica. Il fatto che, appunto, queste orchestre si sono unite per fare questi video tutti insieme appassionatamente, che in realtà... Cioè, qui su Instagram, in realtà, i musicisti lo fanno tutti i giorni. Cioè, viva l'app a cappella, a cappella, che tutti si mettono insieme e suonano tutti insieme. Ecco, oggi è diventata una cosa super yeah per le orchestre famose. E quindi, eccoci qua, vi faccio vedere. E alla fine, devo dire, dai! Mi sono andato da paura. Sì, molte orchestre stanno facendo questo tipo di promozione. Comunque, sono dei modi per... Cioè, cercano in qualche modo... Eh, vedi? Dai, il mio accento non era male. Aspetta. Vedi che carini però quelli da scala, hanno pure scritto Buona Pasqua. Tiè, sono pochi, insomma, quelli da scala. Ciao, Buona Pasqua. E io concluderei così. Ma, invece, non so se hai saputo che una famosissima solista è stata colpita dal Covid-19. Anche se finisce, è l'olinista. È vero. È stata una... Purtroppo... Sì, infatti, la cosa che mi sconvolge è che lei è stata l'unica a dire questa cosa, ma che, insomma, lei ha contratto il virus. Ha contratto il virus. A me sembra molto strano che nell'ambito della musica classica nessuno se ne sia uscito con questa cosa. Cioè, solo lei. Cioè, voglio dire tutto il mondo, tutte le orchestre, 12.000 persone, solo lei. Speriamo che, insomma, quest'ora con noi sia stata un'ora spesa bene, nella cultura... Nella spensieratezza. Nella spensieratezza, nel prendere un bel caffè insieme. A pesare un bel tempo e a prendere un caffè in compagnia. Cin cin. Ah, cin! Cin! È pure indifferita nel video, eh? Cin cin, cin cin, cin cin. Speriamo di rivedervi anche la prossima volta. Penso che tra tipo due minuti Instagram ci cancellerà e cancellerà le nostre pagine e che abbiamo, diciamo, ci dirà tipo avere le modi di rotto. E insomma, niente. Speriamo di tornare con nuove notizie sempre più interessanti. E anche qualche gossip. E anche qualche gossip. È stato bello. Gaia, noi due ci sentiamo, ovviamente, ci vediamo. E ti mando un bacio grande. State connessi? Com'era? Stay tuned. Stay tuned. Ciao a tutti. Ciao! Ciao!